Benvenuti in Euronews, il sistema di informazione giuridica che permette al professionista di essere sempre aggiornato. Ecco i titoli di questa edizione. Illegittimità del provvedimento amministrativo per violazione del diritto europeo. Il Consiglio di Stato chiarisce. Il Consiglio di Stato ha chiarito le conseguenze dell'illegittimità di un provvedimento amministrativo per violazione del diritto europeo. Se il provvedimento amministrativo è contrario al diritto europeo, è illegittimo. Il cittadino che ritiene che un provvedimento amministrativo sia illegittimo per violazione del diritto europeo può impugnarlo davanti al giudice amministrativo entro 60 giorni dalla sua notifica, superati i quali esso diventa inoppugnabile. Diritto di accesso gratuito alla prima copia della cartella medica. La Corte di Giustizia europea chiarisce. La Corte di Giustizia europea ha stabilito che il paziente ha diritto di ricevere gratuitamente la prima copia della propria cartella medica. Il paziente può richiedere la copia della cartella medica al medico o alla struttura sanitaria presso cui è stato curato. La struttura sanitaria può addebitare un costo solo per le copie successive alla prima. Bancarotta fraudolenta documentale. La Cassazione chiarisce la legge. La Cassazione ha chiarito la nozione di bancarotta fraudolenta documentale fornendo importanti precisazioni sulle due fattispecie alternative previste dalla legge. La bancarotta fraudolenta documentale è un reato che può essere commesso in due modi sottraendo o distruggendo i libri e le altre scritture contabili tenendo la contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita. Anche l'omessa tenuta dei libri contabili con figura reato di bancarotta fraudolenta documentale. La legge punisce l'imprenditore che non ha tenuto la contabilità anche solo per una parte della vita dell'impresa. Questa era l'ultima notizia per ulteriori approfondimenti consultate il testo in allegato al video. Arrivederci.